salve a tutti benvenuti a questa diretta di oggi e in cui parleremo di siamo in compagnia con il dottor paolo conforti che praticamente è un medico dello sport collabora col dottor spattini e comunque parleremo di un argomento che sarà pure sulle sarà sull'esercizio fisico e l'intestino però sarà in questo periodo particolare in cui appunto stiamo stiamo attraversando che ci stiamo anzi stiamo cercando di passare molto alla riapertura stiamo cercando di ritornare alla normalità e si spera prima possibile si è cominciato a fare come sono cominciato a fare dei piccoli passi come dicevamo in prima fuori onda che poi ovviamente il dottor conforti si presenterà da solo ovviamente si presenterà l'argomento perché poi l'ha scelto lui questo titolo dicevamo che io nelle video consulenze che sto che sto effettuando sto trovando molte persone ferme sulla sull'attività fisica e questo non va assolutamente bene a parte il discorso alimentare che non che sto trovando dei disastri a livello alimentare però sull'attività fisica è un dramma ovviamente diciamo come ripeto spesso dobbiamo bisogna riprendere l'attività fisica però bisogna riprendere con un certo criterio e prima parlando con paolo dicevamo che ovviamente ogni ogni persona ogni in ogni patologia bisogna cercare di fare l'attività fisica giusta e quindi oggi parleremo proprio di questo per esempio io dalla mia piccola esperienza sulla su siccome mi occupo molto di patologie autoimmuni di sia di di asci moto ma tutte le patologie autoimmuni e mi occupo anche di fibromialgia non mi sognerei mai a un fibromialgico di fargli fare una mezza maratona o una maratona altrimenti lo uccido ma ovviamente quella va gestita in un certo modo allora io direi che abbiamo raggiunto pure un buon numero per poter vi ricordo soltanto prima di tacere e di raccogliere poi le domande perché poi mi starò a raccogliervi le domande intanto saluto tutte le persone che ci stanno salutando ecco vi ricordo innanzitutto domande brevi come al solito vi ricordo due la finalità di queste dirette che è beneficenza beneficenza in che senso beneficenza perché queste dirette devono darvi dei consigli dovete uscire dopo dopo che avete seguito la diretta di acro caspita questa cosa non la sapevo eccetera eccetera sì la fibromialgia è autoimmune confermo giusto vedo una domanda già fatta poi poi in un altro in un altro discorso in un altro discorso in un'altra diretta poi vi spiegherò anche perché questa non è la sede opportuna adesso per parlare di fibromialgia e poi vi ricordo che domani invece ci sarà la dottoressa tranchila che parlerà del 5g di tutti gli impatti del 5g sulla sulla nostra salute ovviamente tema caro caro anche al dottor terziani in questo caso e quindi domani prenderemo un altro argomento comunque a te la parola paolo ti presenti sicuramente dirai perché hai scelto questo titolo allora sì mi chiamo paolo conforti sono un medico dello sport e sono sempre stato appassionato un pochettino di medicina anti aging medicina funzionale eccetera quindi diciamo che l'esercizio fisico è sempre stato una chiave di volta per migliorare la salute del paziente questo già come medico dello sport noi usciamo anche come prescrittori dalla scuola di specialità come prescrittori di esercizio fisico e quindi a seconda del tipo di patologia si può fare una prevenzione primaria una prevenzione secondaria ok e quando si tratta di fare un trattamento di sport terapia sul malato ovviamente non è lo stesso tipo di esercizio che può fare uno che ha un problema cardiovascolare rispetto a uno che ha un problema di bpco di broncopneumopatia cronico-ostruttiva eccetera ok quindi il discorso è che l'attività fisica ha un è proprio un farmaco ok e deve essere dosata e personalizzata il più possibile perché è un farmaco potentissimo perché se voi pensate potete andare a cercare un po di letteratura ha un effetto trasversale su tutta una serie di patologie addirittura come nessun farmaco ok nessun farmaco agisce sul cardiovascolare ma anche sul mente sul sul sistema nervoso centrale piuttosto che sulla flessibilità piuttosto che su ridurre il rischio per cancro eccetera pensate che ci sono anche dei protocolli di sport terapia per le donne che hanno avuto il carcinoma mammario per far sì che non abbiano la ricaduta perché si è visto che gli atleti si ammalano molto meno di cancro e che se quelli che si allenano è molto difficile che abbiano le recidive per dire ok quindi l'attività fisica c'è veramente tanta letteratura che ci dice che fa benissimo però nonostante questo abbiamo siamo in un paese in italia in cui c'è una sedentarietà dilagante ok qua da noi quando uno deve ha preso un po di peso dice che si mette a dieta non dice mi prendo le scarpe per andare a correre per dire cosa che invece all'estero uno si va subito a prendere le scarpe e nel nostro paese siamo veramente molto inattivi e l'inattività fisica è considerata un rischio per patologia al pari del fumo di sigaretta del colesterolo al pari di altri fattori di rischio molto molto famosi molto sdoganati hai dei dati sulla sedentarietà in italia un terzo della popolazione è completamente fermo e se arriviamo a due terzi ci contiamo quelli che pensano di essere invece che si muovano che si muovono e invece sono insufficientemente attivi ok quindi è una percentuale una bella fetta della popolazione è una bella fotografia della nostra italia ovviamente al sud peggio un pochettino sono più sedentari e però la media del dossier passi che è una una dell'istituto superiore di sanità che è quello che si va a vedere più o meno e che fa questi tipi di studi e i sedentari sono veramente veramente tantissimi quindi anche qui si è visto che fare il giusto tipo di esercizio fisico può far migliorare molto ma questi soggetti molto sedentari basta veramente poco per ottenere un sacco di benefici ok al netto che poi la cosa deve essere il più personalizzata possibile però per ottenere dei benefici minimi per agire non so sulla pressione arteriosa piuttosto che su l'assetto lipidi piuttosto che sulla glicemia basta veramente poco e il problema è che molto spesso l'italiano neanche quel poco vuole vuole mettere vuole mettere in campo ok e quindi c'è un giusto livello di fitness che deve essere individuato perché poi alla fine noi abbiamo che dobbiamo andiamo fondamentalmente il nostro metabolismo si divide tra catabolismo e anabolismo ok noi quando facciamo attività fisica facciamo catabolismo cioè la nostra performance tra virgolette peggiore in quel momento perché stiamo distruggendo tutta una serie di composti per creare glucosio ok e poi alla fine noi dobbiamo tornare ad avere un momento invece di recupero in cui noi poi possiamo andare a fare quella che viene definita supercompensazione io se sbaglio i momenti del recupero questo può essere un grosso problema tant'è che siccome l'esercizio fisico ha delle rilevanze e dei corrispettivi anche sia a livello di stress ossidativo ma a livello anche di citochine infiammatorie dopo lo vedremo meglio ne parleremo meglio è chiaro che sbagliare i recuperi vuol dire creare dei grossi problemi questo ovviamente ce l'hanno di più chi lo sport lo fa per mestiere ok che deve stare attento nella programmazione annuale o nella programmazione per l'olimpiade a non andare in overreaching e in overtraining perché l'overreaching per esempio è uno stato di carenza di performance da cui si recupera in giorni settimane ma se andiamo in overtraining ci servono mesi per tirare fuori un atleta dall'overtraining ok e quindi quello non dico che sia giocato le gare che aveva in calendario ma poco ci manca ok e quindi la parola d'ordine è non improvvisare la parola d'ordine è non improvvisare non improvvisare infatti la cosa migliore sarebbe studiarlo un soggetto ok sia come mobilità articolare che come quadro ormonale come esami del sangue cioè per capire perché poi non siamo tutti uguali allora c'è della gente che si allena cinque volte a settimana e non ha problemi ci sono delle altre persone che non si possono allenare cinque volte a settimana ma in alcuni circuiti come per esempio quello degli che è dell'endurance come il crossfit dove c'è una pressione anche un pochettino sociale nel fare un certo tipo di prestazione perché hai quelli di fianco che ti stimolano dai allora fai più barpis o fai più trazioni in minor tempo eccetera ovvio che questi sono persone sono persone che non sono tutte uguali quindi questo tipo di approccio può creare molto spesso qualche qualche problema anche perché come ti dicevo l'esercizio è infiammazione cioè anche la anche la sedentarietà è infiammazione perché per esempio se io sono sedentario completo ho un aumento di citochine infiammatorie che derivano per esempio dal tnf alfa e ho quella che viene chiamata low grade inflammation ok quindi l'infiammazione cronica di basso grado che poi porta a tutta un'altra serie di patologie come il diabete patologie cardiovascolari patologie tumorali è la più pericolosa perché ovviamente non si fa sentire non da nessuno non da nessuna visaglia e in più sotto lavora ok magari il primo sintomo che ti dà è che magari ti viene un infarto ok e quindi quello è un tipo di infiammazione ma noi abbiamo che il nostro organismo è fatto per superire un alto livello di infiammazione però deve essere fatta a picchi e a recuperi ok fondamentalmente quindi io anche durante l'esercizio fisico ho l'infiammazione è un'infiammazione che magari deriva più dall'interleuchina 6 che è adesso tristemente famosa ultimamente l'interleuchina 6 però l'interleuchina 6 se viene se l'organismo seguendo l'interleuchina 6 è quella che diciamo abbiamo nominato più volte nel covid 19 no quella che poi si scatena tutta la cascata infiammatoria giusto per chiarire che molti non sanno tant'è che sono stati anche presi in considerazione dei farmaci che agivano proprio sull'interleuchina 6 ok però l'interleuchina 6 è una citochina che noi mettiamo in campo anche durante l'esercizio fisico ma se noi la mettiamo in campo con con grano salis cioè se noi facciamo la nostra prestazione poi facciamo un recupero degno l'interleuchina 6 è anti infiammatoria tant'è che c'è una review del 2013 mi pare che parla di interleuchina 6 come arma doppio taglio ok cioè può essere vantaggiosa può essere svantaggiosa se io tengo un'intensità di esercizio molto alta e un volume di esercizio anch'esso molto alto e dopo vedremo che sono due cose che non possono andare di pari passo io sono praticamente sempre infiammato e questo apre anche quello la porta a un sacco di patologie perché più infiammazione meglio questo discorso qui perché credo interessi che l'abbiamo fatto fuori in fuorionda dicendo che il caso il primo caso no di godogno era passato era passato che troppo la troppa l'attività fisica faceva quasi quasi ammalare di più sfatiamo questo mito qua e spiegacciono meglio cosa fanno che quello che poi è adesso io vado da quello che ho sentito dai telegiornali quindi l'ho contestualizzato in questo modo però quello che so è che questo soggetto poi veniva da una maratona poi era andato a giocare a calcetto poi era andato in giro in bicicletta era uno che tendenzialmente i recuperi non li faceva ok e quindi questo può darsi facilmente che fosse in uno stato di infiammazione da sport ok che poi sarebbe stata la porta d'ingresso dell'infezione ok il fatto di essere infiammati è un problema perché se noi siamo assolutamente sedentari sovrappeso eccetera siamo infiammati se noi facciamo troppo sport siamo infiammati quello che dobbiamo capire noi e fare la giusta quantità di esercizio fisico perché l'esercizio fisico è un farmaco ok e quindi c'è una dose tossica e c'è una dose terapeutica e c'è una dose che non serve a niente perché è troppo poco quindi va esattamente trattato come un farmaco e le similitudini sono sempre più sempre più chiare riguardo a questa cosa visto che una domanda che vedo spesso ho visto nelle domande quando ecco visto che hai parlato proprio adesso di a volte non serve a niente fare stare per esempio sotto soglia quando si parla di sotto soglia cosa si intende perché molti è il passaggio teoricamente tra l'esercizio aerobico quindi dove faccio l'attato ma riesco a smaltirlo a quello anaerobico dove io comincio ad accumularlo ok e quindi chi fa endurance spesso fa quello che viene chiamato test con coni dove si valuta la soglia e sulla base di quello poi uno stabilisce il suo ritmo gara che è quello che poi tiene durante la prestazione perché la bravura di uno che fa quel tipo di sport è magari tenere lo zucchero voi sapete che sopra soglia io utilizzo il metabolismo lattacido e quindi comincio a bruciare zucchero e faccio acido lattico quindi io devo tentare di usare di andare a grassi per la grande maggior parte del della gara per poi tenermi lo zucchero per lo sprint finale è lì che si vede la bravura del dell'atleta di endurance perché è uno che conosce molto bene la sua soglia conoscemmo sa bene come lavorare nelle sue zone di allenamento e quindi riesce poi a gestire la gara nel migliore dei modi tenendo un ritmo gara che è sotto la soglia anaerobica in modo di non accumulare troppo lattato e quindi è un è un lavoro che però se c'è della gente che fa questo sport non ha mai fatto un test cioè non sa neanche quale sia la sua frequenza di foglia e quindi non può sapere il suo ritmo non può sapere la sua frequenza vanno molto a spanne ok ok per quanto riguarda invece il si è creato una piccola confusione si è creato una piccola confusione a casa visto che siamo a casa con i bambini il bello della diretta ti chiedevo una vedo un po di domande poi ne leggeremo stanno arrivando 3.000 domande allora il fatto uno deve dimagrire nel dimagrimento quello che ti chiedevo una persona faccia attività fisica ma non riesco a bruciare non brucio in quel caso in quel caso c'è cosa come come si deve comportare sta sbagliando attività fisica ma in che cosa ci sono allora intanto bisogna c'è attività fisica attività fisica perché dobbiamo distinguere tra quella aerobica anaerobica l'attività alla tacita quindi a seconda del carico che io utilizzo uso un tipo di metabolismo e fondamentalmente noi bruciamo grasso solamente grasso quando dormiamo ok perché il metabolismo aerobico è quello che noi teniamo quando siamo fermi però ovviamente la quantità di grassi che io brucio seduto su una sedia magari quando sono seduto sulla sedia brucio solo grassi ok però la quantità in valore assoluto di grassi che io invece brucio andando sopra verso la soglia è maggiore ok quindi devo gestire bene questo mio consumo a seconda dello sport che voglio fare che può essere uno sport di situazione che può essere fare i pesi che può essere fare quindi anche per esempio lavorare su tentare di mettere su un po di muscolo dopo il mio metabolismo basale che è quello che io brucio a riposo dipende criticamente della quantità di massa magra che io quindi un altro modo può essere sicuramente fare l'aerobico però sicuramente anche mettere su un pochettino di muscolo perché poi a riposo quel muscolo che io ho messo su in più mi aiuta a bruciare di più quello che diciamo si chiama interval training no c'è l'intervallare l'aerobica in aerobica credo che sia un modo per bruciare perché poi pensano tutti è interessante perché vai a produrre acido lattico e poi quell'acido lattico deve essere smaltito e viene smaltito in maniera aerobica quindi hai praticamente tu fai questi intervallati ok però anche quando tu ti fermi che poi può essere un recupero attivo passivo a seconda che cammini che ti fermi proprio il tuo metabolismo aerobico rimane alto perché deve pagare quel debito di ossigeno che ha fatto quando ha fatto lo sforzo pesante ok sono tutte cose che possono essere utilizzate però devo capire che tipo di soggetto davanti perché un soggetto super stressato quello butta già fuori un sacco di cortisolo non gli posso far fare un intervallato ad alta intensità ok perché mi butterà fuori talmente canto cortisolo che vanificherà completamente il mio il cortisolo aumenterà la glicemia la glicemia aumenterà l'insulina e con l'insulina alta non si non si dimagrisci ok e quindi anche lì sbagliare il tipo di esercizio fisico è molto è critico sbagliare il tipo di dieta sbagliare per ne parlavamo prima se un soggetto dorme o non dorme cambia tutta tutta la differenza del mondo io seguendo i corsi della di speciane di lui diceva che in un soggetto più prima è nominato quello stressato il grosso imprenditore di impresa o quello che lui dice non so se mi confermi questa cosa se diceva facciamogliela fare appena torna quando per buttare via questo stress no appena una giornata piena di stress molto a volte si accumula stress però poi non si riesce a buttare quindi non so se questa cosa condividi o meno condivido assolutamente quello che ha detto luca e il carico allo statico che è il carico di stress che ha il mio soggetto che può essere uno stress psichico derivato dal lavoro a cui poi aggiungo lo stress fisico ok è tutto lo stesso carico di stress sul mio soggetto però io devo come terapeuta capire che ho davanti questo è uno che sta sempre a rimuginare è sempre acceso oppure uno che riesce a staccare se non riesce a staccare devo farlo staccare io e questi soggetti si è visto che l'attività migliore che possono fare è uno steady state cioè una camminata a intensità moderata magari condotta nella natura perché si è visto che degli studi di risonanza magnetica funzionale hanno fatto vedere come i soggetti che facevano questo tipo di lavoro avevano un disinnesco delle cortecce prefrontali che sono quelle che ti noi abbiamo uno stress durante la giornata ci arriva una mail brutta ci arriva una cosa noi abbiamo lo stress quel momento ma poi ci pensiamo tutto il giorno magari e questo fomenta la cascata dello stress che magari ogni volta che ci ripensiamo buttiamo fuori il cortisolo ok invece si è visto che i rumori della natura e quindi c'è tutta la storia del fare attività piedi scalzi andare nelle foreste sentire i rumori della natura il rumore della natura blocca i pensieri di ruminazione derivanti dal da un uso eccessivo delle cortecce prefrontali e quindi è come se spegnesse lo stress lo spegne proprio tant'è che c'è chi pensa che magari il contrario di un pensiero negativo che io posso avere sia un pensiero positivo no in realtà il contrario è proprio il rumore giusto essere immersi nel nel rumore giusto per cui noi siamo programmati per stare nella natura ok la natura disinnesca tutta una serie di problematiche che che il problema è che noi ci siamo allontanati dalla natura ci siamo allontanati e quindi non adesso paghiamo questo questo scotto io ti comincerei a leggere delle domande perché se no sono tanti le domande sono allora prendo l'ultima cominciamo dall dall'ultima e che non so se la vedi pure a video dopo la camminata veloce mi capita mi gira la testa e si annebbia la vista da cosa può dipendere con tutta probabilità può dipendere dal fatto che abbiamo mangiato o meno prima di farla ok che ci siano delle ipoglicemie magari è un soggetto che di per sé ha una glicemia un po ballerina che magari agli esami semplicemente della glicemia che uno fa a digiuno eccetera non viene non viene non viene visualizzata ma magari ha durante la giornata dei dei cali glicemici dati da una dieta sbagliata dati da uno stress dati e quindi questi cali di zuccheri poi alla della glicemia alla fine possono dare questo questo tipo di sintomatologia oppure l'idratazione perché la gente non beve non beve non beve non c'è niente da fare tu puoi insistere ma la gente non beve quindi si è calcolato che tipo un 2 per cento di idratazione in meno precluda cioè la performance in maniera esagerata ok cos'è un 2 per cento praticamente niente c'è gente che beve un bicchiere d'acqua tutto il giorno hai capito e quindi una porta aperta visto che abbiamo condotto una volta una testa di laurea perché io lavoro anche in ambito universitario abbiamo fatto sugli atleti della palla a nuoto che erano disidratati con la via e quindi aumentando l'idratazione hanno migliorato anche la performance quindi c'è della gente per esempio che ha dei dolori articolari esagerati ok e allora quella lì è gente in cui magari c'è un acidosi tessutale che non riesce a venire lavata via perché il nostro metabolismo produce acidi ok dormo male c'è un accumulo bisogna lavare via bisogna fare delle giornate in cui magari beviamo il doppio di quello che beviamo normalmente per tentare di pulire via questi questi tessuti ma come magari ci dovremmo abituare un pochettino a fare qualche digiuno ogni tanto ok saltare la cena una volta o due alla settimana perché anche il cibo è infiammazione e nell'intestino il fatto di lasciare qualche ora l'intestino a riposare crea dei grossi vantaggi come facevano i nostri nonni che mangiavano la tradizione che la medicina poi ha sbugiardato completamente adesso stiamo andando a riprendere quello che erano le medicine orientali che ti dicevano di meditare con magari l'HRV per vedere lo stress e stiamo tornando al digiuno come i nostri nonni che saltavano la cena del venerdì e avanti così ti dice sempre la stessa persona visto per continuare avevo fatto colazione bevo due litri d'acqua giusto per comprare a vedere quanto pesa perché per esempio è un litro ogni 25 kg di peso quindi se è un soggetto di 50 kg ed è un soggetto che si muove che fa esercizio fisico ovviamente i due litri sono la base ok poi a seconda di quanto tu ti muovi poi devi aumentarla ok andiamo su un'altra domanda questa qui di rossana io da un po di tempo dopo aver camminato 10 chilometri sono molto stanche ci metto due giorni a recuperare prometto che a parte questo un periodo sono allenata cosa rispondiamo al in questo caso guardare un pochettino come la giornata in toto perché ci sono persone che pensano di avere una giornata perfetta e magari noi siamo io lo dico sempre anche quando faccio dei video eccetera noi siamo fatti per essere accesi la prima parte della giornata ok ad essere molto performanti dalle tre di pomeriggio dovrebbe scattare il parasimpatico ok che è quello che poi ci porta al recupero cioè noi ci avviciniamo alla sera e dovremmo andare a diminuire le cose molto spesso le donne passano la sera a stirare a fare i lavori di casa e finiscono molto tardi ovvio che lì viene pregiudicato un sonno giusto viene magari anche lì c'è un problema di idratazione magari c'è un problema di stress magari c'è un rapporto in famiglia che non non è così tranquillo come cioè va valutato purtroppo tutto nella psicologica che la componente della dell'igiene diciamo di come organizzata la giornata sia l'esercizio fisico perché magari quella camminata che questa signora fa magari in questo periodo è troppo certo certo allora leggiamo quest'altra domanda che ho fatto un po prima un po dopo per un fegato che fa fatica a smaltire le tossine magari magari malgrado la dieta esercizio fisico fa bene o no avendo sempre fiato affannoso allora l'esercizio fisico fa bene teoricamente il fatto dell'affanno è perché stiamo utilizzando un pochettino più di zuccheri quindi dipende da quanto è questo affanno ovviamente il discorso del fegato e dello smaltimento è un discorso affascinante perché il fegato prende parte a quella che è la disintossicazione allora innanzitutto ci sono dei soggetti che non detossificano come quegli altri ok quindi non siamo tutti uguali perché i miei citocromi non sono uguali a quelli di un'altra persona magari i miei funzionano al 70 per cento quelli di un'altra persona funzionano al cento per cento e quindi una persona che si può si può permettere un carico tossico maggiore e invece un'altra persona invece funzionano ancora meno e quindi sente addirittura se cambia non lo so la tinta dei capelli piuttosto che cambia noi purtroppo al giorno d'oggi veniamo a contatto con tanti di quei tossici che voi non avete un'idea e ci sono le persone che detossificano benissimo che non fanno una piega sono le persone che invece fanno fatica e poi anche il livello di tossificazione dipende sempre anche dallo stress quindi sono le persone che magari in periodi che sono tranquilli vanno i loro enzimi funzionano benissimo e persone che invece no e senza contare che anche l'esercizio fisico che magari induce un dimagrimento le tossine sono lipofide quindi si sciogliono nel grasso e quindi molto spesso quando c'è un lieve dimagrimento può capitare anche che queste tossine vengono rilasciate in circolo e quindi diano un problema di aumento delle tossine in circolo ok quindi non dobbiamo solo pensare a ovviamente non non parliamo di tisane eccetera parliamo di detossificazione epatica come quella di un farmaco però dovete pensare che molto spesso nei profumi le pentole c'è tutta c'è addirittura un opuscolo del ministero che parla dei distruttori endocrini e di come le cose magari vengono cotte nella plastica oppure il pollo per dire che viene scaldato e poi la pellicola sopra viene messo sotto le le lampade che lo tengono caldo tutto il giorno scaldando la pellicola e il pollo sotto c'è lì c'è un rilascio di di sostanze da queste pellicole di plastica che sono derivati idrocarburici poi alla pelle del pollo ma potrei parlare di alluminio delle cotture al cartoccio potrei parlare che vengono spesso utilizzate con gli agrumi ok ma l'acido dell'agrume col caldo fa penetrare scioglie praticamente l'alluminio lo fa penetrare nei cibi ok quindi ce n'è diciamo che la prendersi cura degli organi e montori no è fondamentale adesso perché ovviamente il fegato è un filtro e ovviamente io dirio faccio proprio quando faccio le visite faccio proprio capire con un filtro come la macchina del caffè dove praticamente dobbiamo cercare di ripulirlo come la pelle come l'intestino adesso parleremo di intestino e andiamo fuori e anche l'intestino è un è un filtro perché il primo filtro in realtà è dato dal microbiota intestinale dove c'è tutta una 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 fascia di batteri che metabolizzano tutta una serie di sostanze perché devono far passare nell'intestino solo quello che ci serve e devono lasciarli invece i tossici e quindi la prima barriera assolutamente di 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 detossificazione è quella intestinale il problema è che questi batteri si alterano veramente con una facilità estrema e quindi il fatto di avere l'intestino infiammato il fatto di 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 avere un microbiota non performante ci pone poi più sensibile alla traslocazione di tossine in circolo al sistema portale e poi al fegato tant'è che poi chi ha problemi come i celiaci che avranno problemi con l'intestino spesso poi tu mi insegni che hanno dei problemi di tiroide perché perché questi immunocomplessi poi vanno in giro e si depositano un po dove vogliono e che danno dei problemi di tiroide problema problema paolo che purtroppo su sull'intestino che praticamente è un organo vero e proprio non il microbiota tutto quello che c'è intorno no fasano io seguo molto fasano parla di un ecosistema intestinale ovviamente no e l'abbiamo sempre ne abbiamo parlato in queste dirette con e prinzi con guido marini che abbiamo parlato con diversi specialisti dell'intestino anche col dottor scianticolo quindi l'abbiamo avuti abbiamo parlato tanto su però ecco la cosa affascinante che pure l'esercizio fisico ha un viceversa si è visto per esempio che in alcuni regbisti il fatto di avere un regbista tendenzialmente è uno che fa il picco e poi va in recupero ok non è come l'atleta di endurance perché è uno sport di situazione fondamentalmente quindi si allenano e poi si recuperano perché c'è da dire che anche a seconda dell'intensità del mio gesto fisico io devo devo tenere un recupero perché nello sport c'è una relazione inversa tra il volume di allenamento cioè quanto dura il mio allenamento e il carico del mio allenamento ovvio che se io sollevo 100 kg ovviamente non lo potrò fare per un'ora e mezza ok e se sollevo quei 100 kg poi devo ottenere un recupero più lungo se invece è un chiletto da un manubrio da due chili posso fare curl un quarto d'ora senza grossi problemi quindi c'è innanzitutto c'è una relazione inversa tra il volume dell'attività fisica e l'intensità alta intensità mi serve un recupero più lungo ok bassa intensità posso recuperare meno ma non vuol dire che non devo recuperare ok e quindi già questo questi regbisti praticamente è stato visto che avevano un aumento di quelle specie microbiche nell'intestino che producevano butirrato il butirrato come gli acidi grassi a catena corta è un un diciamo una visione di salute del nostro intestino cioè ci dà un preliente rociti nutre praticamente la piti viene utilizzato anche a livello energetico quindi c'era una una selezione di questi batteri e quindi questo dava un indice di salute fondamentalmente all'intestino quindi il giusto quantitativo di esercizio fisico aveva selezionato quei batteri ma per esempio in studi su triatleti su altretti di endurance di ultra endurance si era visto che questi avevano perché poi c'è un livello di soglia anaerobica oltre al quale il io aumento molto il mio cortisolo ok inevitabilmente il cortisolo crea un allargamento delle giunzioni strette dell'intestino e quindi mi dà un leaky gut che è la sindrome dell'intestino permeabile funzionale cioè io sono stressato perché non faccio i recuperi e il mio intestino diventa a colabrodo questo produce un aumento in circolo di lipopolisaccaride e di tossine diciamo inerenti ai gram negativi esagerato che danno un risvolto infiammatorio addirittura si è in atleti di ultra endurance mi pare si è visto che avevano dei livelli di traslocazione batterica e di tossine da lipopolisaccaride in circolo equiparabili a quelli di una sepsi ok con la sepsi si muore i soggetti erano talmente abituati a questa cosa che erano diventati la gestivano questa situazione non vuol dire che gli facesse bene ok però se il livello di di citochino infiammatorie e di lipopolisaccaride ce l'aveva uno normale moriva io c'ho qua davanti uno studio che tra gli atleti agonisti ci sono anche selezione di batteri che smaltiscono l'acido lattico vengono selezionati pure dei batteri che ci aiutano a smaltire questo e poi quello che dicevi tu che dopo una maratona sia si può avere una liquigat cioè questo non è una cosa che avevo letto in uno studio e quindi l'hai confermata l'hai confermata la liquigat ricorda tutti che poi ci può portare a quell'infiammazione di basso grado e alle malti autoimmuni quindi poi queste tossine che girano vanno ad attivare il nostro sistema immunitario perché un'altra cosa che l'intestino è molto bravo a fare è il microbiota che sta all'interno del nostro tubo ok del lume dell'intestino parla col sistema immunitario che c'è associato alle mucose e quindi dice se il sistema immunitario deve prepararsi alla battaglia o no e il fatto di aver virulentato questi batteri produce un aumento di nfkb che è il maestro della guerra diciamo delle citochine infiammatorie e quindi questo produce un il fatto che io magari per degli stimoli che non sono proprio patologici metto in campo la bomba atomica il mio organismo come sistema immunitario e quindi sarò sempre infiammato sarò sempre un discorso di overreazione se vogliamo qua ti fanno una domanda per te chiedo al dottor conforsi da quando da quando ha preso l'attività fisica modifica la composizione del microbiota intestinale proteggendo butirrato quali alimenti oltre le proteine del latte possono essere utili quali attività fisiche consigliate in caso di problemi del microbiota ora innanzitutto le linee guida per lo sportivo ci dicono che servono più proteine ok e quindi questo è abbastanza ovvio però quello che viene detto nelle linee guida spesso è di limitare le fibre perché possono dare dei problemi intestinali perché ovviamente il l'atleta viene viene sottoprosto a uno stress l'intestino è già magari più delicato e magari queste fibre si pensa che diano una un'irritazione in realtà il fatto di abbassarle potrebbe essere di abbassarle troppo potrebbe essere un fattore di gravità cioè un fattore che 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 crea più problemi perché poi non avendo queste fibre magari i bifidi batteri bifidobatteri o i batteri che producono butirrato e tutto quello che di cui si nutre il mio microbiota per poi dare cibo agli enterociti dell'intestino magari non viene prodotto perché magari uno limita troppo le fibre quindi le fibre non devono mai mancare ok è un discorso si nutrono di fibre quindi è il loro cibo di toglierlo come viene suggerito da qualcuno in realtà potrebbe essere un autogol allora ti leggo un'altra domanda la fisica consigliata dipende sempre da che soggetto c'è davanti sicuramente un'attività che preveda dei recuperi quello fuori di dubbio allora per lo stress ossidativo sibilla ti chiede come cosa consiglia come antiossidante allora sicuramente accoppiare magari un antiossidante di ipofilo con uno invece dei liquidi cioè del terzo spazio e magari con una molecola che li rigenera ok quindi poi di parlare di stress ossidativo bisogna vedere di cosa si parla perché lo stress ossidativo io sono sempre per misurarlo quindi dire c'ho lo stress ossidativo magari andrebbero fatti dei test sul siero per vedere se c'è lo stress ossidativo perché poi si è visto che bisogna essere adesso nel mio campo nel campo della nutrizione sportiva bisogna essere molto attenti a non dare vagonate di antiossidanti perché si è visto che bloccano la super compensazione dell'atleta quindi se io voglio mettere su un muscolo mettiamo e faccio un'attività pesante con i pesi io poi ho il muscolo infiammato il muscolo infiammato poi io mangio e lui recupera ma quell'infiammazione mi serve per fare la super compensazione se io dopo c'è molta gente che prende gli antiossidanti dopo l'allenamento sbagliatissimo a meno che io non sto facendo il tour de france faccio un volume di esercizio fisico allucinante non umano e allora ovviamente mi prendo gli antiossidanti ma quello che fa l'esercizio fisico tre volte settimana cioè se li può prendere alla mattina al limite ma non dopo allenamento ok perché va ho visto che nello sport ecco c'è molta confusione anche su questo su questo argomento ecco per questo di rivolgere sempre allo specialista che ti sa seguire perché se no altrimenti facciamo delle delle cose di questo tipo qua realmente uno deve dare degli stimoli che non sono contrari tra di loro quindi deve essere tutto coerente e spesso si fa se non è così ecco certo allora in ma che saluto dice mi scusi ho mia madre 70 anni che artrite reumatoria psoriasica ecco varie altre parcerie tra cui demenza senile come curarla considerando che non esce manco di casa da più di un anno cioè in questi parenti che non che non riescono a fare attività prima abbiamo detto ognuno la sua attività no il cardiopatico che ha questi problemi proprio di che non la può fare l'attività fisica ci sono comunque degli specialisti che fanno l'attività passiva ok pure fanno dei trattamenti con manicotti pneumatici ok che in maniera da tentare di fargli fare oppure elettrostimolatore poi possono essere il problema è che lì uno non ci dovrebbe arrivare ok perché deve essere molto chiaro che quando un paziente si alletta o si o si ferma lì il declino è è un attimo perché se io faccio attività fisica io alleno il mio organismo ad essere resiliente ok e quindi gli stress che mi arrivano io riesco a tamponarli mano a mano che io sto sempre di più sul divano sto sempre indipendentemente ovviamente qui ci sono delle patologie che hanno questo che la costringono a stare ferme però il problema è che una volta che si è interrotta la capacità funzionale di questi soggetti e che diventa veramente per loro anche alzarsi da una sedia diventa diventa difficoltoso lì bisogna fare un lavoro con degli specialisti che facciano proprio una rieducazione una lì è un discorso che deve essere fatto veramente a tavolino perché uno più sta fermo più si alletta più diventerà faticoso per lui fare qualsiasi cosa è come se la mia comfort diventasse sempre più piccola sempre più piccola a un certo punto diventasse impossibile fare qualsiasi cosa io per esempio in alcuni pazienti consiglio la fare dei manubri da in questo modo gli elastici gli elastici che voglio dire piccole attività magari aiutarli ad alzarsi dalla sedia perché è una cosa che tutte queste piccole attività che però devono essere valutate da un fisiatra da un fisioterapista perché poi è la prima parte quella lì ok si allora leggiamo questa qui che riguarda la lombosciatalgia lasciamo stare la tiroidite un attimino con nodulo benigno ma concentriamoci sulla una persona che soffre di lombosciatalgia in medicina è un campo magico cioè nel senso che bisogna guardare un sacco di cose allora indicativamente noi invecchiando abbiamo una retrazione dei muscoli della catena genetica posteriore che sono muscoli che voi non sentite che si sono contratti ma voi dovete pensare che quando state in piedi è come se ci fosse un muscolo che è sempre contratto e quello non va in acido lattico per intenderci non avete il crampo nella schiena stando in piedi ok lui è sempre contratto e invecchiando questi muscoli si è visto che hanno una sovrapposizione fibrotica diventano sempre più fibrosi sempre più corti e quindi una cosa buona da fare è tenere un allungamento fare allungamento allungamento a freddo e lontano dall'attività fisica perché quel tipo di fare tipo quello che viene chiamata riabilitazione posturale globale con delle delle posizioni che vengono tenute per un pochettino di tempo magari io tiro quel muscolo anzi tiro tutta la catena cinetica perché poi ci sono delle delle posizioni che magari tirano dal allungano dalla testa fino al tallone ok e il fatto di allungare questi muscoli in catena fa sì che questi muscoli rimangano un pochettino un pochettino più lunghi e spattiscano di meno questa retrazione perché altrimenti uno tende sempre a ad accorciarsi e dopo alla fine la lomba e poi sulla lombalgia molto lo stress perché molto spesso i dolori inter scapolo vertebrali ma anche quelli della lombalgia sono dovuti a un accumulo di stress per cui magari uno va in ferie e quando è in ferie non c'ha male oppure può essere dovuto a un'infiammazione intestinale perché dobbiamo non dobbiamo dimenticarci che l'intestino appoggia lì sui grossi muscoli lombari e quindi anche il fatto di avere magari delle problematiche intestinali quello può essere può essere da gestire ok poi ti chiedono di nuovo su come si chiama il test per capire la soglia se ne possono fare di tanti tipi c'è un test da campo che viene chiamato il test con coni e oppure c'è il test col col consumo dei gas che è una maschera che dove si fa un protocollo incrementale si vede quanto la co2 emessa è più dell'ossigeno consumato insomma quello mi dice è il gold standard ecco per la valutazione della soglia domanda domanda comune di questo periodo dice la pappiera esercizio fisico perché di solito sta molto a casa qual è meglio la camminata può bastare visto che siamo in questo periodo questo è un po le domande bisogna senz'altro partire con l'attività fisica aerobica come la camminata però questo non vuol dire che ci si debba perché in realtà come dicono tanti tanti medici coscienziosi bisognerebbe allenare tutte le caratteristiche quindi dovremmo allenare la forza dovremmo allenare l'aerobica dovremmo allenare l'allungamento dovremmo allenare tutta una serie di per rendersi sempre più residenti perché anche il lavoro sulla forza è stato visto che un soggetto vecchio ma forte è un soggetto che si ammala molto di meno come un soggetto che ha un aerobico molto sviluppato ha un vo2 max molto alto che è un consumo d'ossigeno molto alto che per intenderci è un parametro che mi indica quanto l'aerobico di quella persona è potente anche quelli sono soggetti che si ammalano molto meno quindi teoricamente uno dovrebbe fare tutto però se comincia anche solo a fare le camminate con i 150 minuti di camminata veloce a settimana magari in tre tranche da 50 quello va già bene oppure 75 minuti di attività di camminata intensa ok quindi 25 minuti di corsa per esempio per tre volte a settimana usiamo in questo caso la parola gradualità nel senso cominciamo anche perché molto spesso ci siamo siamo stati sedentari per molto tempo ecco l'errore più grosso è cominciare a sparare subito un'altra cosa da stare attenti sono i farmaci perché per esempio vabbè tu vieni dalla scuola di Luca sai benissimo tutti i problemi che danno i farmaci ma per esempio per il microbiota è il misuso che è stato fatto degli antibiotici nell'ultimo periodo è stata una cosa mostruosa mostruosa e per il microbiota si è visto che le certezze non sono tantissime però questa cosa è veramente certa che più il microbiota è biodiverso cioè più sono in equilibrio e tante le specie di batteri che ci sono nel mio organismo più io sono in salute ok più io ammazzo con l'antibiotico questi batteri più io ho un calo della variabilità del microbiota il calo della variabilità del microbiota predispone addirittura a un sacco di patologie predispone infiammazione ma addirittura ci sono delle teorie sul fatto che il gli antibiotici producano un calo della biodiversità del microbiota che dia addirittura un'atrofia muscolare perché l'infiammazione che scaturirebbe da questo da questa cosa andrebbe a colpire addirittura anche il muscolo quindi si pensa addirittura che dietro la sarcopenia che è una piaga che sta evolvendo ci sia anche un misuso di farmaci si proprio ieri ascoltavo il bravo Guido Marini che è stato con noi pure in una diretta ci sarà di nuovo parlava che molto oltre agli antibiotici uso uso ovviamente da uso e obuso e fuori e anche fuori diciamo quando non si devono dare no perché uno copriamo subito con un discorso del virus copriamo con l'antibiotico l'antibiotico è per i batteri si fa preventivamente e sbagliamo poi crediamo creiamo l'antibiotico resistenza ma creiamo un danno al microbiota ma lui diciamo che dura tantissimo perché quando io do una passata all'antibiotico delle volte quel microbiota lì può rimanere azzoppato per anni quindi pensate magari uno che si fa un paio di giri di antibiotico all'anno che penso che sia il minimo perché c'è gente che invece viene sterilizzata di continuo con bot di antibiotici ogni mese quindi pensate al danno che fate a una struttura così delicata come il nostro microbiota e pensate alle delicate implicazioni di cui abbiamo parlato all'inizio di questa chiacchierata cioè è veramente e soprattutto pensiamo alle antibiotici nei primi mille giorni di vita del bambino anche il discorso del parto cesareo parto naturale cioè cambia il mondo perché il microbiota è vero che del bambino si forma anche con una traslocazione un pochettino a livello della placenta però il grosso del microbiota il bambino lo prende al lato del parto attraverso il canale vaginale quindi i soggetti che fanno il cesareo perché le donne non vogliono partorire hanno paura di sentire dolore eccetera però bisognerebbe almeno capire che una parte di quel microbiota venga trasferito comunque al bambino perché altrimenti il primo contatto che il bambino ha è magari con la pelle dell'ostetrica e quindi magari prende un certo tipo di batteri che sono quelli della pelle invece di prendere quelli del canale vaginale della madre che poi hanno tutta una valenza per il bambino che poi lui si porta dentro per quasi tutta la vita infatti nella tendenza c'è uno studi in Inghilterra magari di contaminare con le garzine il bambino in questo caso però molti non lo sanno io ho chiesto questa cosa al ginecologo ovviamente mi sono stato zitto perché ovviamente lì non mi sono neanche presentato nel senso che gli ho detto di questa cosa qua è la cosa che mi ha risposto dice ma ci sono studi? ci sono cose nuove? no quasi niente c'è un vergognoso c'è il mondo c'è il mondo e non saperlo non saperlo e non prenderlo neanche in considerazione Dalia ti fa quest'altra domanda il digiuno che hai parlato pure di digiuno ma noi abbiamo parlato di digiuno di saltare la cena una tantum non abbiamo parlato di digiuno anche perché andiamo a mettere un digiuno il buon Gabriele Prinzi ci insegna cosa fare con le gastriti perché bisogna capire che tipo di gastrite è c'è ipersegretiva, iposegretiva se c'è un reflusso, se non c'è, se c'è un ernia iatale eccetera quindi anche lì bisogna capire magari come diceva invece il dottor Garitano bisogna tentare di farlo una volta perché si è visto che praticamente l'epitelio dell'intestino si riforma anche in 15-18 ore di digiuno allora delle volte mettere un pochettino a riposo l'intestino con delle tisane eccetera può migliorare questa situazione ecco il discorso di aumentare i liquidi un pochettino quello lava via gli acidi oppure il reflusso biliare che può esserci e quindi se uno vuole provare a fare un digiuno ovviamente sa che deve aumentare l'introito idrico in quei momenti e poi va visto caso per caso perché c'è della gente che se sta senza mangiare ha molto bruciore quindi magari va dato qualcosa di naturale per bloccare un pochettino questo bruciore la sera che magari uno decide di fare il digiuno sì ma giustamente quando c'è stato Gabriele Prizia abbiamo discusso proprio di questo che poi va valutata uno pensa subito al reflusso ma c'è quello biliare c'è una mangiata di acido c'è il mio nuovo mito ok allora ti fanno Marina ti fa quest'altra domanda quando mi alleno o no da cosa può derivare? anche lì bisognerebbe vedere la pressione se magari cala troppo perché le donne hanno sempre magari la pressione un pochettino bassa oppure può essere anche lì il fatto della glicemia oppure può essere l'idratazione bisogna vedere se il caldo pregiudica aumenta o no questa sintomatologia quindi va va anche lì è una domanda da un milione di dollari ok allora rispondo io a una domanda che è stata tirata in causa della fibromialgia autoimmunità visto che nella diretta con il dottor Guidone abbiamo parlato di non autoimmunità ma quello che sto portando avanti ho visto che si associa molto alla teoria di Hashimoto ci sono delle evidenze anche lì sulla permeabilità intestinale e quindi in questo caso io ritengo la considero una mattia autoimmune in questo caso quindi giusto per chiarire che ci aveva fatto quella domanda inizialmente poi ti fanno la domanda su il fibromialgico che domanda l'ho vista prima la domanda ma il fibromialgico cosa dovrebbe fare come attività fisica è una bella domanda nel senso che secondo me il fibromialgico è una patologia che è talmente multifattoriale che bisogna andare a trattare ogni singola branca perché nel fibromialgico intanto si è visto che molto spesso c'è un ipocortisolismo e quindi magari è una persona che è rimasta stressata per una vita e quando io subisco uno stress ho che mi si aumentano il cortisolo e il deidropiandrosterone il cortisolo è un ormone che catabolizza e il deidropiandrosterone è un ormone che anabolizza vengono secreti insieme per creare equilibrio ok se lo stress è protratto comincia ad abbassarsi il deidropiandrosterone e quindi io ho uno squilibrio tra catabolismo e anabolismo ok a un certo punto se lo stress è ancora protratto si abbassa anche il cortisolo e il cortisolo ci serve per sopravvivere questa gente qua magari è in burnout va valutato sempre il cortisolo in questi soggetti perché magari è gente che invece deve prenderlo il cortisone ma magari deve prendere quello bioidentico deve prendere il cortone acetato piuttosto che prendere un cortisonico con un tempo di emilita molto lungo che crea dei problemi e magari basta dare delle bricioline di cortone acetato durante la giornata per mimare quella che è la curva fisiologica del mio cortisolo che è andata persa perché molte persone possono avere un'alterazione della funzionale della curva del cortisolo ma a un certo punto delle volte la curva si appiattisce poi il discorso degli acidi sicuramente bisogna guardare magari facendo delle manovre se c'è un acidosi tessutale bisogna aumentare l'acqua bisogna è un discorso quello sulla fibromialgia bisogna vedere se c'è un conflitto emozionale perché molto spesso anche questi pazienti sono pazienti che hanno un rimuginio purtroppo nella fibromialgia sto lavorando molto sulla disfunzione dei mitocondri anche lì la dieta fondamentale nella disfunzione mitocondriale il digiuno fondamentale nella disfunzione mitocondriale fondamentale le sostanze mima digiuno come il resveratrolo lì veramente bisogna provare a trattare tutta una serie di cose senza lasciare niente perché è una patologia talmente bastarda che ha delle implicazioni su talmente tanti assi che trattarla noi purtroppo veniamo da una concezione della medicina di tipo farmacologico che noi pensiamo che c'è una causa di malattie c'è il farmaco che colpisce quella malattia finito in realtà adesso tutte le patologie più bastarde sono patologie multifattoriali e quindi devi guardare tutto e non è più vero che la testa non vuol dire niente perché se questa persona ha un conflitto con un familiare che però c'è in casa oppure deve prestare attenzione a un familiare che ha magari l'Alzheimer c'è la sindrome del caregiver che crea un burnout completo a livello psichico emozionale quella è una persona che hai voglia cortisolo oggi cortisolo domani come arriva messa dopo un po' e parla veramente un sacco di cose una nutrizione una nutrizione sbagliata che magari porta delle ipoglicemie durante la giornata dopo se vado in iglicemia magari mi aumenta il cortisolo per migliorare quella glicemia ok e quindi magari mi serve una dieta diversa dello smangiucchiatore magari assolutamente d'accordo facciamo una domanda saluto Adriana il digiuno a cui faceva riferimento prima si può fare anche a pranzo o funziona solo la cena allora le cose più frequenti sono perché poi bisogna tenere un digiuno abbastanza lungo 15-18 ore sono o fermarsi di mangiare al pomeriggio tipo io quando lo faccio smetto di mangiare alle 15 e poi vado alla colazione il giorno dopo ed è la cosa più semplice perché poi alla fine alla notte se io mi idrato bene perché molto spesso lo stimolo della fame e anche disidratazione è per quello che io rompo sempre le scatole con il discorso dell'idratazione molto spesso mangiamo perché lo stimolo della fame viene confuso con quello della sete e i due centri di fame e di sete sono molto vicini ok esatto e quindi il fatto di utilizzare il riposo notturno fa sì che poi io sia meno cosciente per le ore della notte e quindi sia più facile altrimenti un'altra cosa che si fa è saltare la colazione e dopo anche lì va visto perché magari ci sono soggetti che magari il soggetto con la panciona che c'è il cortisolo che è infiammato che c'è il cortisolo alto di suo non ha problemi a saltare la colazione perché sono quelli che tendenzialmente ti dicono io prendo un caffè la mattina e vado fino a pranzo senza far colazione va tutto visto però tendenzialmente la cosa più che segue di più i bioritmi della persona è saltare la cena perché alla notte avvengono delle cose avviene la basificazione della matrice extracellulare avviene la detossificazione e quindi diciamo che saltare la cena è più fisiologico è più funzionale dal punto di vista della fisiologia invece saltare la colazione è già di meno però è già una cosa che si può fare perché anche lì attacchi il digiuno notturno al digiuno della colazione saltare il pranzo non lo vedo super performante da questo punto di vista guarda io di solito racconto sempre come si facevano con i nostri nonni che mangiavano la colazione tanto poi a pranzo e poi magari il pranzo lo facevano anche più tardi verso le 15 come dici tu 15-16 e poi ovviamente evitavano di cenare perché avevano già fatto un po' chi vuole salvare il pranzo sono quelle persone che magari sbagliano la qualità del pranzo e per le quali gli viene poi l'abbiocco del pomeriggio ok magari mangiano la pasta a pranzo che magari in un soggetto che ha un pancreas un pochettino ballerino poco performante lo manda in ipoglicemia del pomeriggio e quindi questi si fanno che sono massacrati al pomeriggio invece di lavorare si addormenterebbero poi arrivano a casa la sera la sera proteine che tengono tengono vigili e quindi magari dopo non dormono la notte questa è una domanda abbastanza lunga grazie per la diretta mi trovo a fare attività fisica in questo periodo alla sera perché al mattino riesco a carburare gli orari sono spasati attività conta pirulano 40-20 minuti posturale sono fibromialgiche o shimoto dal punto di vista del nostro orologio biologico è un errore si apre un mondo sulla cronobiologia sui disturbi del sonno ne parlavamo prima io mi occupo molto sul discorso del sonno ovviamente fare attività fisica serale ovviamente libera molto adrenalina non adrenalina quindi ovviamente potrebbe disturbare il sonno tu cosa ne pensi di questa cosa di sera? sono assolutamente d'accordo tant'è che ci sono dei soggetti che vanno in palestra la sera tardi e poi hanno problemi a dormire in realtà voi state forzando il vostro organismo in orto simpatico tono in un momento in cui dovrebbe essere in parasimpatico perché fuori il buio gli sta dicendo al vostro chiasma ottico che deve riposare e invece voi lo tenete acceso tant'è che se poi si è visto che quelli messi peggio dal punto di vista dell'invecchiamento io mi occupo anche di medicina anti-aging sono i turnisti e gli steward cioè i turnisti che lavorano la notte e gli steward che fanno molti viaggi transoceanici e quindi sballano molto l'orologio biologico per il fatto del volo trascontinentale queste sono persone che invecchiano molto più velocemente perché voi dovete pensare che noi abbiamo tutta una serie di risorse del nostro organismo ok più io utilizzo male queste risorse più queste si assottigliano io lo dico sempre sono pesissimo su questa cosa a un certo punto quando le risorse sono esaurite diventa faticoso veramente fare qualsiasi cosa e magari arrivano le patologie e quindi a un certo punto se voi vedete uno che è abituato a fare degli stravizi notturni poi alla fine li paga perché i recuperi non sono più quelli di prima e l'organismo ti sta dicendo basta ok la stessa cosa per chi fa troppo esercizio fisico quindi sarebbe meglio puntarsi la sveglia un pochettino prima la mattina magari fare una mezz'oretta di meditazione prima in modo da modulare un pochettino il risveglio mattutino e poi fare l'esercizio fisico al mattino perché noi partiamo che la luce alla mattina le luci blu con cui veniamo a contatto alla mattina ci accendono e attenzione perché parlando di luci blu bisogna parlare anche di questi maledetti device che sono terribili perché la luce blu che mi tiene mi manda il cervello in attività al mattino è la stessa che noi mandiamo attraverso il tablet i cellulari eccetera quindi anche utilizzare questi device alla sera mi fa mi tiene mi stimola la parte del mesencefalo della veglia e quindi anche l'igiene del sonno viene bloccata da queste cose dopo le 9 di sera bisognerebbe o metti gli occhiali quelli col filtro blu e allora puoi continuare magari a rispondere alle mail perché è un filtro praticamente che blocca questa irradiazione o altrimenti bisogna mettere via il telefono non c'è niente da fare ok allora voi siccome ci chiedono come rimettere a posto il microbiota i probiotici sono sufficienti insieme alla dita alcalina per investire il microbiota allora si possono utilizzare ovviamente è meglio il discorso completo in cui io vado a fare un repulisti e poi vado a stimolare quelli che sono i miei enzimi digestivi quindi magari vado a sostenere le funzioni digestive del mio organismo e poi prebiotici e probiotici vado a reinoculare probiotici ok questo è un discorso che va però modulato con una dieta adeguata e poi va fatto a step ok quindi si può senza poi vanno prese delle sostanze per chi ha l'ikigat che ha l'intestino a colabrodo si prendono delle sostanze che facilitano il rafforzamento delle giunzioni strette tra le cellule quindi magari lo zinco piuttosto che la l-glutammina sono tutte sostanze che si possono utilizzare e poi senz'altro il reinoculo con dei probiotici probiotici che però devono attecchire ok quindi il fatto di dare solamente dei probiotici delle volte non è abbastanza perché bisogna creare un ambiente con le fibre per il quale questi probiotici poi si attaccano e diventano residenti quindi riassumiamo questa cosa qua che abbiamo ripetuto più volte non è che uno va in farmacia prende il primo probiotico e lo prende con i probiotici c'è un mondo veramente quindi è meglio qualcuno che che sa dove buttare le mani perché è veramente un mondo quello dei probiotici ed è un mondo che ha una letteratura sterminata letteratura sterminata che adesso si stanno facendo le metanalisi e quindi anche la varietà di probiotici che c'è in commercio la varietà degli studi la varietà degli approcci che sono stati anche le stesse metanalisi faticano a dire cosa funziona e cosa no ancora quindi siamo in una fase precoce ci sono gli studi c'è molta letteratura ma bisogna sapere dove buttare le mani con queste cose perché col fai da te si rischia di far peggio allora sempre la stessa persona ti chiede quindi aumenta il cortisolo ma allora l'attività fisica non va bene chiediamola perché non si è capito bene vorrei che saltasse fuori che il medico dello sport dice di non fare l'attività fisica chiediamola un attimino bene perché passasse bene il concetto che attività la fisica va benissimo in chi è a digiuno meglio cominciare con la camminata e poi fare i pesi la forza eccetera ok quello sacrosanto è ovvio che io devo valutare che tipo di sforzo imprimo al mio soggetto perché se uno che al mattino ha già il cortisolo alto di suo l'imprenditore ok super che magari ha una pancia così perché è infiammato e pieno di cortisolo quello lì fare attività fisica al mattino gli fa peggio perché poi se uno la fa controvoglia aumenta ancora di più il cortisolo il momento dell'attività fisica deve essere un momento per noi rilassante dove io mi e quindi se ho dei problemi di stress meglio l'attività fisica steady state tipo la camminata meglio in un parco adesso ci fanno riuscire per l'attività fisica quindi benissimo l'attività nel parco meglio ancora se è un bosco dove ci sono dei cinguetti meglio ancora se c'è un ruscello perché questi gli odori del bosco gli odori i rumori del bosco permettono di abbassare il cortisolo ma questo lo potete fare anche per dire se siete stressati anche mettendo un video di youtube con i suoni della natura in casa si è visto che c'è lo stesso movimento di sblocco delle aree prefrontali ok stessa identica cosa quindi fare attività fisica commisurata ok e non controvoglia aggiungo una cosa che il cortisolo si libera dopo un'attività fisica in un certo tipo e quindi magari in quel caso che il cortisolo liberato dopo l'attività fisica può mangiucchiare il muscolo può determinare quindi una demuscolazione quindi in quel caso per abbassarlo io consiglio sempre dopo l'attività fisica sempre di mangiare dei carboidrati e delle proteine insieme per cercare di gestirlo almeno è un vecchio trucco che si utilizza e può essere fatto sicuramente per inibire il catabolismo muscolare però vi dico quello che ci frega a noi come società moderna è il fatto che noi non abbiamo solo lo stress dell'attività fisica se fosse solo quello noi non avremmo mai problemi ma dobbiamo siamo a contatto con tutta un'altra serie di stressori che possono essere i tossici che può essere il telegiornale che può essere i social che possono essere cioè veniamo a contatto con tutti noi siamo fatti per stare nella foresta e scappare ogni tanto dalla tigre ok quindi altissimi livelli di stress che poi vanno in recupero immediatamente il fatto di essere in una società che ci dà così tanti stimoli tutti questi stimoli qua ci tengono sempre accesi ed è quello lo stress che noi dobbiamo combattere più che lo stress dell'esercizio fisico lo stress dell'esercizio fisico va bene ma dobbiamo imparare a spegnere quell'altro stress che è quello che è quello diciamo anche dai social digiunare per qualche giorno dai telegiornali cioè sì sì infatti è quello che diciamo le persone che ci che 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 ci fanno peggio perché ci sono delle persone che c'è una contaminazione anche sociale ok di 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 cattivi pensieri eccetera quindi magari veniamo sempre a contatto con uno che si lamenta costantemente anche questo ci pone in una condizione di stress quindi meglio gestire quel tipo di variabile piuttosto che quella dell'esercizio qui ti fanno un'altra domanda segue atleti con problemi intestinali quindi racconta un attimino la tua esperienza quali possono essere ok la risposta credo di sì che segui a te ovviamente quindi la risposta la sapevo pure io ovviamente sì no come dicevo al dottor garitano non ho un paziente tipo perché da me può venire il businessman stressatissimo che gli interessa essere performante nel suo lavoro per intenderci come può venire il tennista di altissimo livello che viene dall'altra parte del però quello che quindi sì sicuramente una delle cose che io guardo sempre è il sonno se questo dorme se questo come va l'intestino la fisiologia come va e tento di sistemare questa cosa alla luce anche dell'orologio biologico perché una volta che noi lavoriamo sugli orologi biologici una volta che noi lavoriamo sulla fisiologia del soggetto il soggetto diventa più performante e gli atleti che devono ottenere un'alta performance sono quelli che non possono permettersi di avere una fisiologia sbagliata perché c'è il super dotato che lui non ha problemi e quindi l'estroso quello che lui comunque fa gol ok c'è la persona che magari è un atleta che ha bisogno di più assistenza di più cura ma può essere anche lui un atleta di primissimo ordine come quell'altro però deve essere supportato a proposito di questo ti dico hai nominato il sonno sfondi una porta aperta con me sul sonno che io ho scritto un articolo su correre che parlava che chi dorme male perde in prestazione perché ovviamente si abbassano i livelli di leptina e ovviamente la leptina che è una molecolina che viene sempre agli adipociti quindi ovviamente fa calare tutto il discorso di prestazione perché va ad agire anche sull'asse del muscolo quindi in questo caso ovviamente ti fanno un'altra domanda Alfredo cosa pensa della dieta chetogenica negli sporsi di endurance allora in realtà non sono assolutamente contrario perché le diete chetogeniche poi abbassano i carboidrati ma tengono i lipidi e quindi aiutano l'organismo ad andare tendenzialmente più a grassi ed è una cosa che all'atleta di endurance serve perché fondamentalmente abbiamo delle riserve di grassi quasi infinite il problema è quando ogni tanto i carboidrati vengono reinseriti che allora lì si rischia di prendere peso perché l'organismo non è più tanto performante nel gestirli e quindi va fatto bene tant'è che persone che hanno delle diete Luca poi ci insegna tutti e due persone che tengono delle diete troppo strette troppo strette in carboidrati poi gli si abbassa la tiroide non c'è una conversione degli ormoni tiroidei come dovrebbe esserci e quindi c'è un abbassamento del metabolismo quando poi noi andiamo a rimettere i carboidrati questo c'è già un metabolismo che si è abbassato e lo facciamo ingrassare quindi deve essere fatto con con testa ok Daria ti fa una domanda di chiarimento mi hai capito mi hai capito che non è proficuo pranzare con carboidrati e cenare proteico io ho pensato fosse corretto allora dipende 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 è la cosa più giusta da dire cioè nel senso che se io sono una persona che anche qui poi se volete andatevi a leggere qualcosa del dottor Spattini perché lui ne ha fatto un vessillo di questo discorso però se io sono una donna che ingrassa magari nei fianchi e quindi devo lavorare un pochettino di più sull'asse della tiroide del GH i carboidrati al mattino e a pranzo mi servono di più per stimolare la mia tiroide e poi andrò a utilizzare le proteine alla sera però se sono una donna stressata e non dormo alla notte allora lì mi serviranno di più dei carboidrati alla sera perché la prima cosa che devo sistemare è il sonno perché uno non può star senza dormire perché se voi ci pensate le torture addirittura a livello militare si fanno con la privazione del sonno quindi pensate che danno che è per il nostro organismo la privazione del sonno il fatto di non riuscire a dormire allora vediamo qualche altra domanda ecco qua ti fanno questa domanda volevo invece sapere le lambe di biofotoni è vero che fanno bene allora se parliamo dell'infrarosso e dello spettro near infrared gli studi dicono che fanno bene e che sono addirittura degli attivatori mitocondriali c'è un sacco di letteratura è una delle cose che mi sta appassionando un sacco ultimamente leggerla e sembra che siano delle lampade molto utilizzate anche dagli atleti quindi al momento poi sai anche lì chi se le fa cioè se se le fa uno pieno di nei o chi mi dice che poi non c'è un problema a livello di questi di questi melanociti ancora è presto per dire però sulla funzione mitocondriale per esempio sembra che siano degli attivatori mitocondriali quindi visto che parlavamo prima di funzione mitocondriale che è una cosa super frequente sembra che queste lampade qua funzionino Patrizia ti fa una domanda di questo tipo prendere inulina prima di pranzo e cena come proprio a parte di inulina è un prebiotico prebiotico allora io mi può andar bene per aumentare i livelli di fibre però non sono neanche uno che dice mangiate quello che volete tanto vi basta prendere l'inulina insieme siccome ci sono dei nutrizionisti che lo fanno io invece non sono non sono dello stesso avviso quindi anche qui sempre va utilizzata la testa quindi non è che io poi prendo l'inulina e mi posso sfondare di tiramisù per intenderci allora su questo argomento intervengo come medicina di segnale che noi diciamo che bisogna sempre intervenire a monte non avvalle il problema è che oggi si cerca sempre il rimedio più rapido più rapido ma non come dicevamo prima con il dottor conforti è questa cosa che oggi o chiamare la medicina di segnale o chiamare la medicina funzionale siamo tutti accomunati da uno stesso obiettivo rimettere in piedi la persona curando tutti gli aspetti che sono della natura della persona però perché questa domanda che ti viene fatta da Letizia è una domanda dice per forza stesso sul valium con tutto quello che il valium può determinare anche sui disturbi del sonno può determinare sul microbiota e bla 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 quindi gli effetti a lungo termine sono ecco però se uno si infida letteralmente alla medicina tradizionale dice va bene allora c'ho stress mi prendo questo magari ho il sollievo del momento poi me lo dimentico me lo faccio il valium o valium o altre sostanze per anni tant'è che il valium diventa la copertina di linus cioè vanno in ferie se non hanno il valium non dormono allora il problema delle benzodiazepine dagli ultimi studi è che sembra che non permettano il cervello non ha il sistema linfatico che è il sistema che detossifica un po' tutto ok il cervello non ce l'hai sembra che il sonno con tutte le fasi il fatto di passare dalle fasi del sonno ondelente a quelle rem e tornare indietro e poi arriva sembra che abbia una funzione in termini di detossificazione ok sembra che le benzodiazepine spengano il cervello senza dare questa opportunità di detossificazione e quindi magari questo qui riuscirebbe svezzandole un minimo magari mangiandosi il piatto di pasta la sera a dormire comunque in maniera dignitosa senza diventare dipendente dal farmaco ma come diceva il dottor Garitano prima si tende sempre a fare la scelta più semplice senza contare che è quella che poi paghiamo però a lungo termine perché poi diventiamo dipendenti da questi farmaci se non ce l'abbiamo casca il mondo eccetera creano proprio una vera e propria dipendenza uno che si allenava la sera si è sempre allenato la sera e poi per dormire ha bisogno del balium scusa allenati in un altro momento della giornata in maniera che dopo alla sera sei calmo per riposare non hai bisogno della benzinazepine questione di stili di vita la medicina è stile di vita bisogna rieducare l'organismo a uno stile di vita corretto perché poi non ha senso andare a prendere un farmaco per una cosa che io gestisco male della mia giornata e poi magari quel farmaco mi dà un effetto collaterale per cui io prendo un altro farmaco che mi dà un effetto collaterale ne prendo un altro e avanti così infatti poi Letizia continua con questa domanda ha orari sballati da tempo non riesce a dormire bene di notte da anni per forza i stress e i lavori di questo riluario non dà tempo gli effetti allungandati questa situazione è come favorire il sonno allungandati può dare dei problemi e quindi consiglio di farsi seguire da qualcuno che ristabilisca il ciclo sanno-veglia del suo compagno perché ci si può lavorare non è vero che non si può fare niente ci si può lavorare anche con discreti effetti anche svezzando pian pianino questi farmaci Allora sull'altra domanda dello stress che può provocare herpes l'herpes è un virus lo stress deprima il sistema immunitario quando il sistema delle difese immunitarie sono bassi ovviamente questo herpes va a salire ovviamente questa è una domanda invece facciamo questa domanda di Marcello che dice cosa ne pensa del digiuno intermittente che ha problemi nell'intestino retocolitucerose la retocolitucerose insieme al morbo di Crohn è una patologia infiammatoria cronica che vengono chiamate MICI infiammatoria cronica dell'intestino quindi noi qui abbiamo già un intestino infiammato per un problema di immunità ok è ovvio che qui potrebbe essere il fatto di lasciare l'intestino un pochettino tranquillo che non deve lavorare troppo potrebbe essere potrebbe favorire con il giusto supporto un miglioramento del quadro in termini di calo dell'infiammazione dell'intestino ma il problema è che a me arrivano per esempio dei pazienti che hanno la retocolitucerose al morbo di Crohn e corrono la maratona ok che è come vi ho detto prima il peggio perché io ho questo paziente che ha già un intestino super infiammato e va a fare uno sport che infiamma ancora di più l'intestino e quindi anche lì bisogna capire cosa fare bisogna consigliare il paziente nel verso giusto ma purtroppo quando hanno deciso uno sport è molto difficile farli ricredere anche alla luce delle evidenze scientifiche che gli proponi e anche lì capita che c'è della gente che prende magari la sulfasalazina o prende dei farmaci per sfiammare l'intestino piuttosto che cambiare sport o prendere delle vie dietetiche diverse allora qui fanno una domanda sulla complessa sportata al tiroide vitiligie c'è qualche cura alimentare per sistemare il beta carotene allora sicuramente prenderlo e il discorso è che con una tiroide già che non c'è lì il discorso è che la terapia sostitutiva lì per forza di cose deve essere fatta e quindi dopo lì bisogna capire che farmaci vengono utilizzati perché ci sono dei farmaci che sono più che danno meno problemi perché poi dei farmaci bisogna controllare gli ecipienti perché se uno ha dei problemi con il lattosio molto spesso ci sono dei farmaci che hanno il lattosio bisogna controllare se questo farmaco converte perché per esempio chi prende il T4 che è l'ormone precursore del T3 il T3 è l'ormone che attiva il metabolismo e il T4 è una sorta di ormone di riserva molto spesso i farmaci che si danno in prima battuta è del gran T4 pensando che la conversione poi tra T4 e T3 avvenga in automatico nell'organismo ma se io sono una persona stressata oppure sono una persona che ha una disbiosi per cui il mio fegato deve occuparsi di molte tossine che arrivano dall'intestino perché ho magari un intestino colabrodo è un aumento dell'ipopolisaccaride questo fegato è un fegato che non presiderà più alle sue attività endocrine come quelle di convertire il T4 in T3 e quindi avrà una scarsa conversione ma è ovvio che questo si prova ragazzi se gli esami si fanno perché se uno fa solamente il controllo della tiroide facendo il TSH reflex non mi dice niente che viene fatto è praticamente solo il TSH ma non vedo quanto di quel T4 diventa T3 non vedo se ci sono degli anticorpi purtroppo adesso si tende a fare degli esami solamente quando la persona si è già malata ma i buoi sono già scappati dalla stalla ricordo che farò un corso sulla tiroide il 17 domenica prossima ovviamente è addetta ai lavori ma se qualcuno è fortemente interessato parlerò proprio di questi argomenti qua sulla tiroide della conversione e anche della formazione dell'RT3 che si forma attraverso si forma sempre in condizioni di stress anche lui si forma in reverse e non l'FT3 quindi ovviamente si ha questo problema non viene dosato non viene un laboratorio che ti dose il stress che è una cosa che si faceva vent'anni fa e adesso non si fa più nel momento che tu stavi parlando una signora una mia paziente mi ha scritto che non so se tu mi sai aiutare il DAO test cioè non sanno che cos'è il DAO test nei laboratori ma stiamo scherzando proprio adesso mentre davo un'occhiata ai messaggi dei miei pazienti che mi arrivano ho cercato il laboratorio in Sicilia per cercare il DAO test c'è l'enzima che scinde l'istamina e non conoscevano che cos'è che non lo fanno non sanno per esempio l'RT3 è un'altra cosa che non sanno oppure quando chiede il T3 e il T4 mi hanno detto mi hanno detto dottore ma forse il dottore ha sbagliato a chiedere il T3 e il T4 forse ha mancato la F ma no io ho chiesto proprio il T3 e il T4 che sono gli ormoni che vengono segreti dalla tiroide l'FT3 e l'FT4 che sono altre cose cioè arriviamo ancora a questi livelli purtroppo c'è una medicina di laboratorio che adesso noi siamo tutti più o meno della stessa parrocchia nel senso che tu dicevi tu io sono per la medicina anti-aging funzionale tu sei la medicina di segnale eccetera però parliamo circa delle stesse cose ok i network che gestiamo sono circa gli stessi quindi parliamo più o meno delle stesse cose la medicina di laboratorio vedo che è una medicina che fatica a stare al passo con queste cose e quindi sarebbe una buona cosa e c'è qualche specialista che poi si sta formando che nel nostro network entrassero dei medici di laboratorio perché un laboratorio che mi mette che l'omocisteina è normale fino a 18 è sbagliatissimo l'omocisteina deve stare sotto 10 perché è un fattore di rischio indipendente cardiovascolare ok quindi molto spesso il problema dei laboratori è che io vado a fare le analisi e i range di riferimento vengono stabiliti a seconda di magari 15.000 persone che vanno in quel laboratorio e quindi non ci sono dei range fissi in ogni ambulatorio ma magari i range di normalità in quel laboratorio sono così ma chi è che va a farsi gli esami del sangue? ci vanno le persone che stanno male molto spesso non è che ci va il giovane allora bisognerebbe utilizzare il range di riferimento e lì la medicina anti-aging un pochettino ci viene incontro e ci dà il range di riferimento per il giovane il range di riferimento del sano quindi si dice per stare sano tu devi tenere l'emoglobina glicata sotto 5 devi tenere l'insulina sotto 5 ok perché se io ho una glicemia 80 perfetta ma magari a scapito di un 10 o 12 di insulina come succede nelle donne con l'ovaio micropolicistico lì è come se il mio pancreas stesse lavorando in prima marcia invece di lavorare in quinta quindi il misuso del mio motore sarà molto molto più grande poi quando vai a fare poi la curva da carico e vai a fare partito ve le sorpresine ma basterebbe fare glicemia e insulina ma invece molta gente io calcolo l'OMA1 che è l'indice l'OMA1 è l'OMA1 un calcolino facile facile però poi non viene quasi mai fatto poi fanno una domanda complimenti dottore perché sei detto molto interessante vorrei chiedere se posso fare una visita a Firenze con specialisti che sono invitati qui da lei io soffro di gastrite croniche ma non so su Firenze sinceramente cosa mi raccomi non lo so su questo discorso io Firenze a parte io su Firenze non ci sono ma credo neanche Gabriele Prinzi parliamo di gastrite su Firenze sulla Toscana c'è il Guido Marini che ha parlato pure qui che sempre fa parte della medicina di segnale giusto per per capire allora ci avviciniamo alla fine vediamo ce ne sono tante altre domande ma leggiamo qualcun'altra colon irritabile con stipsi come migliorare i sindomi della regolarità intestinale allora la stipsi anche lì è una disbiosi e quindi dobbiamo capire se è una disbiosi alcalina o una disbiosi fermentativa quindi se è del colon del grande intestino del piccolo intestino se c'è una di solito le stipsi sono del grande intestino quindi sicuramente risolvere la stipsi anche con dei sali di magnesio per esempio che possono essere utilizzati per ridurla e poi anche lì bisogna capire bisogna fare delle domande un pochettino poco simpatiche al paziente perché bisogna chiedergli la consistenza delle feci che odore hanno le feci se hanno un odore particolarmente pungente mi orienta un pochettino verso quella che è una disbiosi putrefattiva e quindi lì la prima cosa è abbassare le proteine aumentare le fibre e poi pre-probiotici insomma va un po' valutato avviciniamo alle ultime due domande allora Alfredo ti chiede tra la corsa e il ciclismo poi è più stressante per l'intestino? Sono lì perché molto spesso i ciclisti fanno un volume esagerato però nella corsa si aggiunge il traumatismo dei legamenti sospensori dell'intestino e quindi molto spesso può capitare che ci sia anche una sorta di anemizzazione perché perdono sangue perché l'intestino quando sbatte sui legamenti perché a ogni rollata del passo il tacco della scarpa picchia sull'asfalto quello può creare a lungo andare dei traumatismi anche quello quindi non saprei dirti cos'è peggio anche lì però se tieni i recuperi giusti questo microtraumatismo poi si va a migliorare allora ti faccio l'ultima domanda che è di della cara Maria Assunta che saluto caramente una mia paziente allora lei siccome te la racconto io la storia lei ha un TSH ovviamente questo diciamo esime dal discorso che stiamo facendo adesso c'è un TSH basso però c'è FT4 FT4 FT3 nei limiti bassi ti chiede cosa fare lei sta facendo terapia con la levotiroxina e con il liotir quindi con FT3 però praticamente troviamo delle difficoltà ovviamente io ovviamente non sono io sto facendo sto studiando medicina però ancora non sono non ho completato gli studi ma ovviamente noto questa differenza c'è questo TSH troppo basso e a volte l'FT3 con con tutto che alziamo le goccine di di liotir abbiamo delle difficoltà dal feedback che perché purtroppo ci sono certi soggetti per esempio che l'FT4 e l'FT3 non danno lo stesso feedback sul TSH quindi ci sono dei soggetti che magari gli dai l'FT3 e il TSH si abbassa ci sono dei soggetti io addirittura ho trovato dei soggetti trattati con eutirox e liotir che avevano il TSH alto perché delle volte il feedback che dà essendo molto rapido l'FT3 perché viene subito immediatamente non ha il tempo di dare il feedback sul e quindi lì bisogna guardare bisogna guardare altre cose tipo il ferro il metabolismo del ferro bisogna guardare la vitamina A bisogna guardare la vitamina D bisogna prendere un pochettino in tutto e poi come paziente la conosco stiamo curando un po' tutto vitamina D l'integrazione selenio era un farmaco bellissimo che era tiroide ipsa che era il T4 più un briciolino di T3 e quindi non c'era bisogno di dare l'Eutirox più dare l'Iotir perché era già tutto farmacologicamente fatto e poi è stato tolto ma il discorso che ti giusto perché conosco come riassunta è quello di dire che gli endocrinologi illuminati illuminati li chiamo illuminati perché ovviamente hanno solo in mente la solo l'Eutirox hanno solo l'Eutirox in mente anzi aver trovato perché ovviamente la conosco un endocrinologo che ragiona almeno pure sull'FT3 nel senso che l'Ateroide Ibi è stata tolta non c'è però aver scisso i due dosaggi però ci sono altre cose da prendere in considerazione bisogna capire un attimino come puoi gestirla allora ok Paolo io ti faccio i complimenti per la diretta perché te li fanno quasi tutti è inutile leggere è inutile leggere a comportarmi infatti è giusto per leggertene l'ultima e grazie per la bellissima diretta siete grandi te ne leggo un'altra che buona serata ad entrambi eccetera eccetera ci ricordo ottima diretta eccetera eccetera te ne faccio leggere un'altra visto per che ringrazio il dottor Concorti per la risposta e complimenti per l'interessante diretta comunque diciamo io vi ringrazio ringrazio tutti quanti che hanno partecipato ovviamente siete stati per un'ora e trenta sì da un'oretta ma non si rispetta mai l'ora perché poi le domande vengono vengono un po' così allora volevo solo dire una cosa che ne so tutto ringrazio chi ha seguito e chi ancora vedo il numero alto anche di chi segue ritroverete la diretta sia sul che poi verrà condivisa nella pagina del dottor conforti verrà la troverete su youtube in modo indelebile quindi non la possiamo manipolare questa non si potrà manipolare questa diretta scherzo quindi la potete rivedere quando volete ovviamente se è abilitato anche il dottor conforti a rispondere a qualche domanda che mi è sfuggita perché ovviamente sono tante le domande che sono arrivate quindi magari sotto la diretta vado assolutamente rispondo tranquillamente come ha fatto Stefano Manera quando ha fatto la sua diretta tranquillamente puoi rispondere magari qualche cosa l'abbiamo detta velocemente magari necessita di qualche risposta un po' più complessa sicuramente l'argomento necessita ma sicuramente mi inviterò Paolo sicuramente in altre in altre dirette dove ovviamente l'argomento ci potevamo stare qui anche 3-4 giorni consecutivi a parlare di trasporto e microbiota e bla 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 e ovviamente io mi sono concentrato un po' a leggere le domande a scegliere quelle più interessanti e tutto il resto però con l'invito che farò farò l'invito a Paolo in altre nel corso del mese di maggio lo chiamerò di nuovo a te Paolo l'ultima parola e salutiamo poi vi ringrazio siete stati gentilissimi ad ospitarmi a farmi così tante domande siete stati super attenti fino alla fine grazie ancora e alla prossima allora se ce ne sarà salve e domani per la diretta con la dottoressa Tranchida che ci parlerà del 5G che abbiamo accennato tutti questi tutto questo inquinamento stress e roba varia ascoltate bene sul 5G ascoltiamo bene pure questa relazione che verrà fatta alle 15.30 cambieremo orario domani non sarà fatta alle 18.30 ma alle 15.30 va bene ciao a tutti grazie buona serata